E' stata inaugurata nella serata di ieri la panchina dell'amore, un primo tassello di un progetto che punta a trasformare il centro storico della città nel luogo simbolo del sentimento più discusso, forte e ricercato al mondo, l'amore. E' un angolo caratteristico del nostro borgo anticolo e credo che questa panchina sia ormai riduttiva, a vederla ormai ci rendiamo conto della bellezza in sé, che certamente deve essere per noi un elemento di ulteriore attrazione verso il centro storico, dedicata ormai agli innamorati. Abbiamo cercato di, come dire, in questa fase così difficile di agire in controtendenza, perché quando si parla innanzitutto di rapporti, di stare insieme, che è un modo per ripartire anche sul concetto dell'impossibilità che il Covid ha deciso di stare insieme, quindi esaltiamo questo concetto di stare insieme. E poi dell'amore in generale, in un momento così difficile, qui si parla di guerra, insomma, in controtendenza con quello che succede, invece noi vogliamo esaltare proprio il fatto dello stare insieme, dell'amore, del rispetto reciproco, insomma, sono questi i valori su cui ci basiamo e quindi ancora di più prende valore la giornata di oggi. Insomma, ci auguriamo veramente che questo piccolo segnale da parte nostra, della nostra città, in qualche modo voglia andare in questa direzione, questo è l'obiettivo che ci avevano posti. Naturalmente voglio ringraziare l'assessore D'Arienzo che ha avuto questa idea e che con tanta determinazione ha voluto portarla a termine. Ed è un altro piccolo successo, insomma, suo e nostro e soprattutto della nostra città. Il sindaco è d'obbligo però farle giusto una domanda, anche perché tanti cittadini si sono chiesti come mai è stata installata su questo Belvedere quando era stata stabilita l'installazione sulla piazzetta Luisa San Felice. Come mai ci sono state delle pressioni, hanno fatto modificare, insomma, il vostro pensiero? Perché si trova oggi ad essere inaugurata sulla piazzetta del Belvedere anziché, insomma, nella piazzetta che è antistante la porta di Agropoli? No, è soltanto per un fatto strategico come posto. È innegabile che questo ha un panorama molto più affascinante perché la piazzetta così particolare, insomma, ha in sé un panorama molto bello e quindi, ecco, una foto, come dire, scattata, un click scattato qui, certo, ha ancora più un'immagine di bellezza in sé e per questo, solo per questo motivo, soltanto perché ci pareva un angolo ancora più caratteristico per poterlo valorizzare ancora di più. Io sono felicissima perché finalmente ho coronato questo sogno insieme, ovviamente, all'amministrazione, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione comunale, il sindaco, per aver condiviso con me questo progetto. Io penso che quest'opera sia un inno all'amore e spero che diventi questo centro storico di Agropoli il cuore pulsante della città dell'amore. Questa panchina si illumina e come potete vedere sul leggio c'è una frase della leggenda della regina Ermegalda e del pescatore. Colgo l'occasione per ringraziare il designer Ciro Ruggiero che è un nostro concittadino ma è famoso nel mondo per le sue opere e voglio ringraziare anche Gioia che ha fabbricato e ha messo insieme questi pezzi fantastici fino a raggiungere questo obiettivo di realizzare questa opera d'arte perché io tale la definisco. Quando ho avuto questo incarico è stato un motivo di orgoglio e ci ho messo il cuore, l'amore e ovviamente contestualizzandolo in questa cartolina, in questo panorama stupendo che è di Agropoli. Ci sono dei dettagli luminosi in questa panchina? Sì, in effetti c'è il cuore che verrà illuminato all'interno dove c'è quella parte nascosta, quella parte che in effetti ha una luce diciamo UR16 nel nostro mondo tecnico e poi c'è questo inciso, questa retroilluminazione dove c'è ovviamente la scritta del testo che dicevo che racconta la storia bellissima di questa regina saracena Ermegalda che si innamorò di questo pescatore. Per me è un motivo doppio di gioia perché sono nato, ho cresciuto qui nel centro storico di Agropoli Alta, dietro la porta di Agropoli. E ovviamente questa storia me la ricordo da piccolo. Non ho fatto altro che richiamare tutto ciò che è organico, che appartiene alla nostra terra, alla nostra cultura come ovviamente è quello che ci ha insegnato la Magna Grecia con il ferro, il legno, queste opere sinuose come diceva, questa opera sinuosa che non ha fatto altro che appartenere al nostro mondo mediterraneo e tutto questo vecchio consumato, questo amore, questo spirito di questa coppia che poi di tutti gli innamorati che ovviamente invitiamo a venire ad Agropoli di farsi una foto, di godersi soprattutto questo panorama che è fantastico. Io ho fantasia e posso anche volare La fantasia Lo so ti fa volare Guarda stelle, guarda In questo mare di stelle Mi perderò Con te Guarda stelle Guarda E un cielo di chiamele Bruciano per te Bruciano per te Ugcomi E un cielo di chiamele E un cielo di chiamele Guarda stelle Grazie a tutti.